Tecnici e supertecnici specializzati nella meccatronica, figure sempre più richieste nel settore. Grazie a Confindustria Lecce e TS Cuccovillo Academy sarà possibile formare volenterosi giovani che intraprenderanno due corsi innovativi nati dall'esigenza di tecnici e supertecnici con specializzazioni non reperibili nel mercato del lavoro. Meccatronico per la gestione e manutenzione degli impianti industriali in collaborazione con Confindustria Lecce e Meccatronico per la sperimentazione e sviluppo nel settore automotive in collaborazione con il Nardot Technical Center Porsche Engineering. Sono due accordi molto importanti, molto importanti per noi, per Confindustria che le ha voluti assolutamente con grande passione e forza ci ha convinti e naturalmente sono importanti per i ragazzi e le ragazze che capiranno l'importanza di queste opportunità e le coglieranno. Perché è importante? Prima di tutto per le competenze che sono molto alte, molto richieste e introvabili, ecco perché Confindustria si è proprio spesa per portarci qua e anche perché ci sono realmente le aziende, quindi ci sono aziende importanti per il territorio. Nardot Technical Center, Porsche Engineering per un percorso e le aziende di Confindustria Lecce per l'altro parteciperanno attivamente al processo di formazione degli studenti. La Confindustria è un continuo innovarsi e oggi avere accordi e associati come gli ITS, e questo nello specifico è assolutamente importante perché è un modo per dare risposte alle nostre imprese associate ma all'intero territorio perché abbiamo la necessità di formare nuove risorse e soprattutto di dare prospettive a tutti coloro che si vogliono avvicinare in maniera seria al mondo del lavoro intendendolo come una grande opportunità per la vita anche di crescita professionale e personale. Fondamentale per lo sviluppo dell'ITS e per il coinvolgimento dei vari territori è il supporto continuativo della Regione Puglia che ha sempre sostenuto l'importanza della formazione terziaria dell'ITS per la crescita dei ragazzi e delle aziende locali. L'Istituto di Alta Specializzazione Post Diploma è sempre più presente sul territorio e l'attivazione di questi due corsi innovativi ne dimostra l'impegno e la militanza.